musica salve a tutti gente sono Casinovante e benvenuti qua di nuovo su The Sims Supernatural eeeh niente questa qua ne metto questa gioca fisso non ha altro da fare comunque ok il nostro trastullino se ne sta andando a letto tu finisci no smettila di giocare a pestalo gnomo e mettiti un attimo a ripulire tutto basta giocare a pestalo gnomo sta fisso giocando a quello comunque abbiamo Annie finalmente con noi dovremo sicuramente lasciare il nostro marito perché relazioni accompagno di Annie ok quindi dovremo prendere sicuramente e buttarlo via da qualche parte e chiacchiera invita invita a uscire no dovrei proprio lasciarlo del tutto ma ci penseremo più avanti mentre ho comprato una tv ho messo sto armadietto qua dentro per fare un po' di spazio e ho comprato finalmente un tavolo e delle sedie per mangiare visto che molti mi stavano dicendo eh ma compragli qualcosa a un tavolo delle sedie e tutto ecco ho comprato così almeno nessuno avrà da dire niente si spera e niente vediamo un po' di vivercela con il nostro mitico trastulli e con Annie non fa altro sta tizia sei molto normale cara si diverte così si diverte così gente vabbè è senza senza lavoro quindi non so più o meno anche io faccio così la mattina trastulli sicuramente toccherà un pochettino stanotte lo noto già guardate la faccia da eh 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 guardate la faccettina da perverso che ha eh 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 sta toccando eh eh sta tocca a lei sembra che stiano facendo cose sconce sinceramente ok sembra oddio è una cosa scena da vedere avevo intenzione ve lo dico adesso di fare un piano di su migliore di questo si capisce cosa sia non si capisce neanche se sia un tetto questo va bene lo stesso comunque Annie mi sa che si è svegliata quindi vediamo un po' yes allora Annie visto che ci sei e che hai fame prepara colazione per tutti va eh prepara colazione no servi colazione servi me lo devo ricordare gofre devi servire mentre che il nostro trastulli dorme va fallo svegliare bene su perché sta pensando una mucca vabbè non ho idea comunque aspettate un attimo questo mi da fastidio ho messo così ecco perfetto la cosa più stupida del mondo la dovevo fare io fa anche a giocare no accendi guarda allenati fa anche allenarsi in tv perfetto comunque al momento la casa sembra ben arredata comunque sia eh l'ho messa più o meno bene ed è carina da vedere tutto allora Annie vuole diventare una cuoca un'autorità culinaria e dobbiamo imparare far imparare tutte le ricette quindi ci vorrà un po' ovviamente ha 38 come primi vitalizi e mancano due giorni al passaggio di età quindi da giovane adulto diventerà un adulto e anche trastuglie così più o meno ah no 5 giorni di età ok gli manca di più quindi è più giovane di Annie maschio o vergine ma vergine aspetta in che senso ok basta io mi ricordavo di averlo no no non è vero non gli avevo messo niente torta di frutta quello se l'aveva messo tutto casuale quindi Annie continua a preparare come felicità vitalizi e primi vitalizi mi avete detto di mettere dove diavolo è no pulizia veloce perché Annie non adora lo sporco ci sono stati un sacco di mi piace su colui che ha messo il coso scusa ma non mi ricordo il nome davvero c'ho una memoria del cazzo comunque mi ha detto di mettere pulizia veloce mi sa che ho visto 5 o 7 mi piace su quel commento gente pulizia veloce acquista ce l'acquistiamo e ce l'abbiamo qua manca poco al compleanno di Annie fra pochi giorni sarà il compleanno di Annie perché non le compri una torta di compleanno e non organizzi una festa e che cazzo per ogni compleanno devo fare una cosa del genere che palle vabbè che stanno facendo cosa stai facendo ma sei scemo ce n'è spazio zio si saluta Annie oggi è contrariato no cos'è cottura irregolare ah Annie hai fatto schifo vabbè non fa niente va allora vediamo un po' cosa devi fare il genere fatti una bella doccia perché se no è un casino Annie che diavolo sta facendo guardando la tv perfetto ok vai guardati la tv zia cosa che ti dica oppure fai la doccia assieme al miti guardate la faccia di lei quando gli dico fai la doccia con trastulli ella ella mentre che aspettiamo l'auto condivisa dire che va anche bene va Annie pensa che trastulli sia ok grazie zia devo andare a lavoro mi spiace ciao prende se ne va subito allora vediamo un po' fra un po' il compleanno di Annie e questa si mette a guardare così qua che cacchio che bisogno ah divertimento bisogno di divertimento no direi che prendi fai la pipì ti fai una bella doccia e ce ne usciamo zia vai vai farti la doccia oh bravo ah cos'è questo imparare l'abilità cucina vai dà un sacco di di premio vitalizio prima però ritira sta cosa che fa schifo cristo anzi riponi davanti oh oh posso quasi intravedere le tiz non è vero si vede un cazzo taverna vai visita la taverna di varg andiamo ah qua lei va in macchina però perché non è un ah no è andata a piedi sembra non si capisce che è sto qua malcolm henris oddio eh che bello che diavolo è sta roba oddio c'è una fata pieno di roba ma che cacchio è sta roba ah si può vai gioca con sta tizia vai gioca biliardino vai vai la distruggiamo vai zia grande partita biliardino di henny henny butta la palla al centro ecco qua che comincia henny stai già per morire no 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 attenzione attenzione la pallina entra nel campo avversario eh non si vede più la pallina state giocando senza pallina ziette non ho capito che ha vinto ma si va avanti zia ah 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 zia cacchio ti ridi vai vai stiamo facendo amicizia giocando a biliardino una cosa fenomenale mi ricorda i miei tempi d'oro al mare c'ha il biliardino cazzo no vai non c'è pallina gente con cosa state giocando siete rincoglionite o cosa non lo so io zia grassa la pallina guardate quanto è grassa sta n***a n***a style e sexy lady bellina guarda mi sa che per trastulli dovevamo se questa qua è single la faccio conoscere a trastulli certo non è possibile basta si è divertita abbastanza zia vediamo un po' gemelli oggi la luna indica possibilità di sfortuna ma che bello che bello saperlo e credo ci sia stata una promozione per il nostro trastulli ok promozione sul lavoro ricorda per sempre blablabla ok siamo diventati che cosa? c'è scritto? lezioni dialoghi sette su sette ok l'impressione diventa un lavoro di sfortuna promozione a teppista ok sono diventato un teppista perfetto non vedevo l'ora effettivamente ok servi aspetta aspetta trastulli zia ne sbatte niente sembra che siano messe male ste robe scusami un attimo cara Annie prima però ti sei seduta ferma tutto stop ok adesso credo credo non rompa più le balle ok andiamo avanti con questo scemone qua guardate che bel maschione che sei ah zio fa una cosa vediamo un po' il cellulare poco poco telefono cellulare che cacchio dormi ma tu sei scemo in testa si chiamo un servizio aspetta prima un attimo pausa allora prendi le ferie non pagate chiama un sim cambia suoneria trasferisci ti organizza una festa ah che vuol dire no aspetta aspetta Annie quando è che fa il compleanno? domani giusto? no fra un po' quindi non ancora ok ah direi che possiamo semplicemente continuare a giocare ah socializzare con un saponetà fare amicizia con tutti i colleghi direi eh prendi una ciotola Annie fai lo stesso che cazzo sta leggendo? reggi tosto francese no eh prendi una ciotola vai zia mangiate oh ora si possono sedere va perfetto guardate che carini che sono attenzione sta raccontando qualcosa di interessante non è vero ha smesso così ha già finito di di parlare allora caro il mio trastulli allora spaventa no ma tu sei scema non si spaventa il trastulli che esce no non si fa Annie che cazzo stanno bacendo oddio allora cattiva recezione al televisione rotta non c'è nessuno capace di riparelo prendi il televisore che troverai lì nell'inventario della tua famiglia e dagli alcuni colpetti per scoprire se torna funzionare ok eh si accettiamo l'opportunità allora ripariamo il televisore nel nostro inventario oggi diventiamo riparatori di televisori non ne ho televisori nel mio inventario ok allora preparare un pasto maccherone e formaggio questo te lo posso far fare zia Annie giusto dovevamo fare un'altra cosa va a cagare aspetta un attimo telefono cellulare eeeh cambia suoneria chiama un sim nope nope questo scemo eeeh invita vai certo sarò da te fra poco ok perfetto così siamo anche di malumore magari eeeh e almeno lo lasciamo in via facciamo prima e mentre trastullino tu mi sa che devi andare al che cacchio ma è una fata oddio vabbè no zia zia Annie no 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 zia Annie no no bravo vai saluta bruscamente vai stavo andando a guardare la tv non gli hai sbatto un cacchio trastullino tu te ne vai a letto invece mi dispiace però oggi trastullino dormi ah fino a ricaricare ok vediamo un po' buffo perfido eeeh perfido disputa oh separati no aspetta no usa un cazzo prendi e lo trattimare e adesso perfido separati vai si è la fine di un'epoca Annie Nix è appena divorziato da Mike Nix un giorno triste che non verrà dimenticato presto che cazzo complimenti all'aspetto va manda via mandalo via scaccialo addio stronzo ok grande umiliazione non me ne frega niente gente abbiamo lasciato finalmente nostro marito e adesso possiamo dedicarci al nostro bellissimo trastulli eeeh dormi fino a ricaricare fino alle 9 ok vai dormi pure e gente direi che con questo bel quadretto qui che piano piano si sta formando direi che vi lascio ci vediamo presto di nuovo questa è un'altra avventura su The Sims Supernatural ciao a tutti belli